Addio a Bruno Arena. Il comico del duo Fichi d'India è morto a Milano all'età di 65 anni. Insieme all'amico Max Cavallari fu protagonista di un lungo e affietato sodalizio comico fino al 2013 quando fu colpito da un aneurisma che gli causò una grave emorragia cerebrale e gli impose il ritiro dalle scene. Grazie ai Fichi d'India Bruno Arena lascia sketch e battute che resteranno indelebili nella memoria degli italiani. Amici, abbiamo per voi delle invenzioni incredibili. Amici, i primi 3.000 che chiamano, 30.000, 3 che chiamano, vi offriamo gratis tutto il materiale del nostro catalogo. Incredibili amici, fai vedere, fai vedere. Ho buttato mia suocere in una vasca con due coccodrilli, coccodrilli son diventati vegetariani. Tic, 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 tic.